Hai visto? Un'altra persona ha messo la macchina vicino a me. Questa è la macchina della scuola, no è della mia, non so è grigio, no è nera. Adesso dobbiamo superare quel montelletto lì. Guarda qua. Qui qui sono appena passato il trattore. Adesso aspetta, qui qua, qui qua. Dai, spieni al trattore. Da che lato viene su? Eh? Da che lato viene su? Ah, è passato al di su adesso. Sarà passato all'in giù? Sì, senza, senti un po' lungo a me. Da dentro di non si parla, non lo so. Guarda là su che mucchi. Nooo, amici, devo andare a scuola. Noi fleeing via. Guarda i concetti cei il trattore a favore. Grazie.